Fiat Fiorino 1.3 Multijet, 75 cavalli, semivetrato, attenzione è un'auto molto particolare perché è una 4 posti immatricolata autocarro N1, in pratica si viaggia in quattro e si scarica tutto, IVA e ammortamento al 100%. Proviene dal noleggio a lungo termine, ha effettuato tutta la sua manutenzione, il chilometraggio è certificato, 104.000 km, visioniamola ora nei particolari. I chilometri sono reali, state tranquilli. Chiusura centralizzata, specchietti e vetri elettrici, naturalmente servo sterzo, aria condizionata e impianto radio. Non perdete tempo, chiamateci subito o mandateci un whatsapp per avere ulteriori informazioni. Visitate il nostro sito e veniteci a trovare a Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia. Grazie per l'attenzione, ciao!